Ciao straniero, mi presento, io sono l'androide numero 20. Se sei approdato sul canale vuol dire che qualcosa ha attirato la tua attenzione. Forse i video, forse la pagina del canale, oppure ti è interessato qualche gioco che stavamo trattando sul canale. Io, come servo di Under of the Dark Mist, devo chiederti una cosa, ovvero quella di rubarti pochi minuti. Dai un occhio a questo trailer e scoprirai realmente le capacità di Under of the Dark Mist e quello che porterà sul canale. Alla prossima, straniero. Alla prossima, straniero. Alla prossima, straniero. Alla prossima, straniero. Grazie a tutti